Allora siete da poco tornati da questa bella esperienza, com'è andata? Diciamo che è andata bene l'esperienza, questo viaggio che abbiamo organizzato da quest'inverno sulla scorta di quello che avevamo fatto l'anno scorso a Međugorje insieme ad altre persone, insieme a Gigi e a Giulio per l'appunto si è deciso di fare questo viaggio diciamo un pochino nella storia, nel tempo che è passato un po' di tempo fa. In pratica abbiamo fatto un percorso che tutto sommato segue quello che hanno fatto parecchi anni fa, i deportati che sono stati portati ad Auschwitz sia dall'Italia che da tutto il resto dell'Europa. Questo viaggio parte da Clusone, si sviluppa per 1200 chilometri su sei tappe per arrivare ad Auschwitz. Le tappe sono circa di 200 chilometri e siamo arrivati domenica sera ad Auschwitz tutti contenti. Purtroppo durante questo viaggio è successo un incidente, uno di noi ha dovuto lasciare perché ha avuto un problema tecnico sulla bici e siamo partiti in 11, siamo arrivati in 10. Però posso dire che nel cuore di ognuno di noi c'era anche Mattia che ha dovuto lasciarci più o meno a metà viaggio. Questo viaggio della memoria è stato abbastanza difficile dal punto di vista del clima perché siamo partiti sotto l'acqua, abbiamo preso parecchi giorni di acqua, c'è stato anche un po' di freddo, però non ho mai sentito nessuno di noi che si è lamentato, c'è proprio stato uno spirito di corpo, una voglia di arrivare che ha fatto superare tutte le difficoltà che abbiamo incontrato sul percorso. E come eravate organizzati? Ad esempio c'era qualche mezzo che vi seguiva? Allora la scelta di questo viaggio è stata fatta di proposito senza nessuno che ci venisse diciamo al seguito. Quindi le biciclette erano equipaggiate con borse o zaini, borse davanti, borse dietro, dove ognuno di noi aveva i ricambi, aveva le cose per cambiarsi la sera, avevamo ovviamente ogni sera dove ci si era posti l'obiettivo di arrivare all'albergo prenotato perché chiaramente tante volte siamo arrivati verso le 7, una volta addirittura anche alle 8 e credetemi che andare a cercare un albergo per 10 persone, non avendolo prenotato diventava ancora un'impresa ancora un pochino più difficile. Comunque qualcuno di noi che ha già fatto il viaggio l'anno scorso era già un pochino preparato da questo punto di vista, però sono contento perché anche chi si è cimentato per la prima volta, come ad esempio qui Umberto e soprattutto anche Aldo, che non dimentichiamo, è della classe 1951, era diciamo il più anziano tra virgolette del gruppo, hanno fatto di tutto per essere sempre lì insieme, per dare una mano anche agli altri e si è creato veramente uno spirito di corpo che ci ha portato abbastanza tranquillamente, devo dire, seppure con qualche difficoltà, alla meta.